Siamo con il direttore dell'ufficio scolastico regionale siciliano, Giuseppe Pierro, in questo bel evento di Fiera Didacta Sicilia, ancora una volta a Mister Bianco. Quest'anno tutto sull'intelligenza artificiale, c'è grande attesa, ma c'è già una grande risposta. Sì, tutti, non solo su intelligenza artificiale, ma anche tutti gli altri temi della scuola. Perché per esempio nel nostro stand, che quest'anno abbiamo voluto un po' più grande, con uno spazio arena proprio per discutere dei problemi e delle tematiche che interessano la scuola, parleremo di tutto. Di intelligenza artificiale, come ha detto lei, ma parleremo anche di 06, parleremo di inclusione, parleremo di musica, parleremo di didattica. Quindi cerchiamo di affrontare comunque tutte le tematiche che interessano la scuola. Che momento è questo per la scuola siciliana? Insomma, ci sono state diverse situazioni anche per quanto riguarda la dispersione scolastica, purtroppo che è una realtà non solo siciliana, ma anche siciliana. Cosa possiamo dire in questo momento sulla scuola, ecco in generale sulla scuola siciliana? Allora, io direi che è assolutamente un momento di grandi opportunità, un po' per tutta la scuola, ma in particolare per la scuola siciliana. Domani presenterò dei dati sulla dispersione che abbiamo rilevato noi come ufficio scolastico regionale, anzi vi invito a venire ad ascoltare anche questa presentazione, dove qualche segnale di miglioramento c'è. E quindi questo insieme alle opportunità del PNRR e di tutte le risorse che stanno arrivando, le riforme, l'orientamento, i tutor. Quindi io direi che è un momento di opportunità indubbiamente. Grazie e buona fiera. A voi. Grazie.